Mamma mia come sei bella, eh sì, eh sì, 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 eh fa vedere? Ma che vestito pazzesco, eh? Questo è top. È top questo, eh? Guarda lui fare il boss Casanova. Casanova? Questo è il piatto forte, nonno non ha alzato la testa un secondo, come sono? Di la verità. Buonissimo. Come? Adesso a qui dico io, ma fai mangiare. Ecco, questo vuol dire tutto, guarda, arsuga, risuga, tutti i sette pepi, tutto il cacio che si mischia dentro, spettacolari. Sei pronto per cenare? Eh? Ci stanno i pistoccheri alla braccia senza fome. Non ho capito niente. I pistoccheri li mangi? Quei mangio. I pistoccheri. I biscotti? Eh. E che bello da fare calazione? Li mangi o no i pistoccheri? Ehi, mi tocca il morto dalla battaglia, steva. È morto. Non li batte che si scocchino, oddio, capo. Ma chi se... Oh, balla? Balla, balla. Balla su cazzo. il bacchetto di scottone che troviamo sulla sinistra, chiudiamo il sacchettino, l'agitiamo per cercare di creare una panatura che trucca fa con questo? apri il sacchetto, chiudi e sbatti sbatti, vai, sbattilo così, la carne è più forte, la carne è più forte, no dietro sta scritto tutto dietro, uno viene qua e ha scritto tutto dietro, qui c'è tutto il disegno, ce lo spieghi lei scusi eh, visto che è il disegno, e poi i pepi, o no, i pepi li devi mangiare sott'olio, eh? li devi mangiare con la mano sinistra, questo si mangia? si mangia? si mangia? si mangia? nonno, arzughe? che arzughe? che arzughe? che arzughe? o no? che arzughe? parla un po' più forte, ti è piaciuta l'oliva scolana? si è buona, è buona, è simpatica, è carina, è una cosa innovativa, è una cosa innovativa, sei convinto? si 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 sono convinto basta, basta, basta che? basta, fai la garaccia, tutta la mano, ma non tanto, per favore, sei stata a cina? bene, anzi benissimo, un bacetto, sei contento? un altro? un altro? mi affanculo! ti sta piaciuta la vacanza? eh 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 ma via! posso dormì con te? aaaah che c'è caga! mi affanmi arrabbiata! Marconte mi ha una storiella Sì, quella di coglione Marconte mi ha una storiella Ma dove via questi succedi?